Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Grazie! Esco io dentro Joe Che fatica raga, sto mettendo tutti uno alla volta, un secondo, è veramente difficile Mi riesco a schippare Lei son già entrato, vero? O sbaglio? Ho un volto noto Buonasera No? Che splendore, grazie Non è quella che è fidanzata, sarebbe la terza volta che dice che è fidanzata e io esco? No? Mai Mi sbaglio Ancora, ciao Sì, sono fidanzata Sì, mi levo dal cazzo Scusami Niente, c'è gag infinito Assurdo, anche voi aiutatemi però C'è assurdo come voi, figa dai, ve lo ricordavo io che ero alla memoria di un pesce rosso Sì No, non me l'ha portata, un pezzo di merda Allora, che cosa è successo? Praticamente voi come se mi seguite un minimo le live Sapete che ho la tosse da Ho la tosse da un mese, no? E ho la tosse veramente forte Cioè, tossisco proprio in maniera molto forte Ieri, mattina Io ti farei arrestare Tu faresti mai arrestare tuo figlio, no? Se tu sai che tuo figlio ha ucciso una persona E lui sta testimoniando che non è vero Il tuo figlio è il più grande figlio di puttana In questo caso la puttana saresti tu, a molto pare Perché è figlio di puttana Non ci sono della puttana Giulia per la battuta Minchia, tu comunque ti offendi per ogni cosa Vai scherzo, va bene, vai Allora Se è un porco maniaco Che ne ha Jody? Vedi, è un mistero tipo Rubino Andiamo avanti Allora 36 28 Urco, non riesco neanche a leggere No, no, ma infatti 28 scrivono, eh Sì, ma sì Ho sete Certo, se me lo chiedi così Grazie Assurdo Lui è qua, lui è qua Lui è qua Quelli che mi hanno insultato Mi hanno abusato, bastardi Ma guarda, guarda, guarda Guarda che bel maranzino Ma subito così Amaranzare Ma lui maranza Maranza veri Ma l'ho abusato Mi sono abusato da tutti Bastardi Sì Ma si di merda No, 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 dai Stai calmo Ma solo quello lì Mi ha detto che sono un coglione Sono io un coglione No, 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 no Nessuno sta mai detto che si è un coglione Non ha mai detto che si è un coglione No, 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 no No, no, no Stai voglia a dire dopo Eh? Stai facendo quello che stiamo Mi piace guardare le sue lecce Quando cazzo sono lecce Ma è veramente brutto Cioè, mi sento proprio un coglione Ciao ragazzi Un bacio Vabbè, fa niente Non si vede un cazzo, dai Fa niente Non si vede niente Eh, fa niente Non si vede nulla Eh, per una scoriazione Grazie Peppe il Superbo Grazie Gabriele Per Grazie Muadetta Grazie il drummer È una scoriazione È una scoriazione Che veramente Non so come cazzo Si sia creata Grazie a te Comunque Quello che volevo dirvi è Giovedì Pensa che babba di miccia Sì Fanculo Dio Fanculo Meriti di meglio Dio anche te Vai Si stai guardando Fanculo Fanculo Aia Fatto malissimo Salutiamo Clippate 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 Clip dell'anno Armando Ma chi è sto qua? Ah? Scusa Armando Sto cantando Sto cantando Sto cantando Ho una domanda No no guarda Simone guarda Ah si solita tecnica Che se passa un corvo salta tutta la connessione Vabbè Rosso dici C'è la pennettina dentro È destino devo andare a prenderla di là Tu intanto racconta Che racconto? Racconta la tua giornata di oggi Ciao ragazzi quanto tempo Ragazzi Allora sto a Milano Qualche giorno sto scroccando Delle abitazioni per dormire Ma poi sei pazzi Allena impazzisce per il mostruoso cazzo di Cristian Seguire quello che tu vuoi ottenere I tuoi obiettivi E li raggiungerai Basta volendo Faccio tante curi a te e a tutta la tua famiglia Come sto? Cadi sana come sto? Oggi è l'ultimo giorno del Ramadan Domani Si inizia con le bevande curative 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 Oggi Decurative Mi sono preso Ma arrivata solo Un regalo Chi è che vuol salire qua Vuole venire chi è? Mocciosi Niente Capito tesoro Cosa ti ho detto Pena adesso Capisci bene Quando parlo Quando parlo io Se non mi capisci Questa parola Mi lo dici Ma mi ha dato del moccioso Mi ha dato del moccioso Cosa ti ho detto Cosa ti ho detto Sì, ma potremmo vedere lì? Come, just chat and chill and vibes in a bar with a coffee or something like that? I said, of course, yeah. E' cringe, però... E' cringe. E' cringe. Ragazzi, abbiamo perso green. Abbiamo perso... basta. Sono le mie fizzoni. Mi fanno un po' schifo. Marta, c'è una lacrima che ti scende. Quegli arricchi signori. Basta, basta. Prego.